Massima allerta per la questione degli sportelli postali periferici, questione non ancora del tutto chiusa con la salvezza di tutti. Così un nuovo incontro è avvenuto a Regione, tra Anci e Unce e Mellar Direzione Regionale delle Poste. Torna, in attualità, la situazione anche in Baldarno. È stato deciso a fronte del piano di poste di agire su due linee. Una, la via giuridica, cioè ci sono i ricorsi davanti al TAR, quindi i comuni continueranno a portare avanti i ricorsi davanti al Tribunale Amministrativo contestando alcuni presupposti del piano di razionalizzazione di poste. L'altra via, invece, per opporsi alla chiusura degli uffici postali è quella politica. In Regione Toscana, Anci, Uncem e Sindaci opereranno chiedendo celermente un incontro al Governo, perché ricordiamo che poste è comunque partecipata anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché il Governo stesso intervenga. Se dunque situazioni come quelle di Meleto sono chiare e ormai certe della salvezza, lo stesso non avviene in altri luoghi, anche nella nostra zona. Quando era stato prospettato la prima volta si trattava della chiusura di 65 uffici postali in Regione Toscana. Nelle ultime comunicazioni che ha fatto poste, 6-7 verranno salvati, ma secondo noi è comunque uno sforzo assolutamente insufficiente, perché questi uffici postali vengono in particolar modo chiusi in zone che in termini di servizi sono disagiate, perché magari si trovano collocate fuori dai centri urbani e proprio per questo però svolgono un servizio essenziale, soprattutto per esempio per la popolazione anziana, per chi ha difficoltà a spostarsi e magari ha bisogno di utilizzare sia per il ritiro della pensione, sia per altre finalità e servizi l'ufficio postale. Peraltro Terra Nuova prosegue anche nella diatriba concernente l'apertura pomeridiana dello sportello del capoluogo, apertura richiesta ormai da mesi dallo stesso sindaco Chienni.